buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è martedì 17 gennaio 2023 una data importante inizia il carnevale oggi si festeggia sant'antonio abate un santo molto molto ancora venerato in molte località della campagna ma anche della città e poi vedremo perché quando inizieremo con il santo del giorno ecco lo vediamo subito nella grafica sant'antonio sant'antonio abate nacque in egitto nel 251 deciso di seguire in tutto e per tutto il vangelo di gesù si ritirò nel deserto dove resistette a molte tentazioni aveva venduto tutti i suoi averi aveva una famiglia benestante quindi aveva un discreto patrimonio che vendette tutto e ricavato lo diede ai poveri e lui si ritirò in deserto nonché privilegiasse una vita eremitica non poté fare a meno che molti compagni si radunassero attorno a lui e vivessero una vita monacale sant'antonio sant'antonio è invocato contro la peste contro lo scorbuto la febbre la febbre di sant'antonio e poi è invocato per le attività agricole e come protettore degli animali domenica scorsa in molte località si è svolta la benedizione degli animali fanno per esempio c'è stata moltissima gente in piazza 20 settembre ma domenica prossima ci saranno anche altre benedizioni in altre località anche a carignano la tradizione è molto sentita una frazione che ancora festeggia con grande devozione sant'antonio devo dire e poi la data di sant'antonio è la data di inizio del carnevale quindi oggi si pranza o si cena di grasso e devo dire che questa sera l'ente carnevalesca di fano ha organizzato una cena di beneficenza al ristorante mediterraneo tra fano e fosso sei ore una cena di beneficenza il cui ricavato sarà destinato ad aiutare l'unione italiana ciechi ed è una iniziativa di solidarietà ed è bello che il carnevale cominci con un'iniziativa di beneficenza quindi chi vuole aderire può ancora prenotarsi il biglietto costa 20 euro il menù è un menù di gran classe che è stato realizzato da uno chef di qualità ed ora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo vediamo che oggi sulle marche i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge e temporanee intensificazioni e nel pomeriggio previsti 25 mm di pioggia i venti sono tesi da sud sud est il mare poco mosso le temperature si aggirano dai 5 ai 10 gradi ed ora apriamo il giornale a partire dal resto del carlino vediamo qui la prima pagina c'è un articolo di cronaca ieri si sono staccati dei calcinacci da un cornicione di una via molto centrale di fano via montevecchio piovono calcinacci dal cornicione due i feriti paura in via montevecchio proprio di fronte al negozio di biciclette si è staccato un pezzo di cemento da 12 metri siamo miracolati il pezzo è molto consistente pensate 12 metri di lunghezza è un pezzo pesante insomma che avrebbe potuto provocare più gravi danni se avesse colpito in pieni per fortuna gli assolo sfiorati le due persone che si trovavano sotto una è stata colpita a una gamba l'altro a una mano comunque si sono medicati da soli mancavano pochi minuti alle ore 17 ieri pomeriggio quando davanti al civico 80 di via montevecchio sono piovuti dal cielo e pezzi di cornicione grossi come san pietrini pensate un san pietrino è di un sarà 20 30 centimetri quadrati un centimetri per lato volevo dire non quadrati un grosso pezzo dunque di cornicione si è staccato senza che qualcuno potesse anticipatamente prevedere una cosa del genere due uomini sono rimasti feriti ieri sera in quel vicoletto cieco dai pezzi di cemento caduti proprio davanti alla porta d'ingresso di quel frequentato negozio uno di questi è proprio il proprietario del negozio il ciclista appunto che vive e lavora in quel luogo poi a fondo pagina abbiamo la replica dell'aset per quanto riguarda un articolo pubblicato dal carlino per quanto riguarda le lamentele di di cure prestate ad un anziano anziano deceduto in ospedale ma ha avuto ogni cura necessaria replica l'azienda sanitaria questa azienda sanitaria crede nella umanizzazione dell'assistenza e questa appunto è la replica per questo fatto e poi abbiamo la notizia che da sabato scorso è chiuso parte chiusa parte del grande parcheggio del foro boario uno dei parcheggi più grandi di fano anzi potrei dire il più grande ed è un parcheggio strategico perché servizie serve soltanto l'ospedale e serve oltre all'ospedale serve anche lo stadio mancini e poi si trova a due passi dal centro storico quindi facilmente raggiungibile a piedi la città murata quindi è un parcheggio molto importante ebbene il parcheggio sarà ristrutturato i lavori dureranno fino al 6 giugno prossimo e a tratti a zone a fasce il parcheggio sarà inibito perché in quel luogo verranno effettuati i lavori di qualificazione e di arredo 100 posti in meno si comincia e poi si correrà via via ai ripari le zone sono di ampiezza variabile quindi qualche volta si chiuderanno 50 posti altre volte 100 altre volte 20 insomma a seconda dell'ampiezza della zona che è stata scelta sono 8 le zone che verranno via via chiuse alla sosta dunque è partito il cantiere è partito il cantiere e veramente i lavori che verranno effettuati sono lavori rilevanti li evidenzia questa mattina sul resto del Carlino l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori ci auguriamo che la sosta resti gratuita visto che l'unica zona rimasta libera ha dichiarato la presidente della Confcommercio Barbara Marcolini e poi vediamo che la giunta sabato scorso ha approvato il progetto di fattibilità per l'ultimazione il completamento dell'interquartieri sulle colline di Gimarra il tracciato con due gallerie artificiali costerà 25 milioni di cui 5 li metterà il comune gli altri 20 sono invece quelli che fanno parte della convenzione stilata qualche anno fa tra regione e comune per migliorare i collegamenti tra Fano e Pesaro sul tracciato della variante di Gimarra da 25 milioni di euro la giunta dunque non si ferma nonostante i malumori all'interno della maggioranza e soprattutto nonostante la determinata opposizione che è stata effettuata dalle minoranze nella giornata di sabato l'esecutivo poi c'è qui una parentesi significativa sul resto del carlino dice assenti il sindaco Massimo Seri e l'assessore Etienne Lucarelli sono due socialisti socialisti sono molto scettici di fronte all'approvazione di questo progetto ha approvato dunque il progetto di fattibilità tecnico economica elaborato da Abacus e quindi piano piano si piano piano si procede anzi ora bisogna procedere in fretta perché i lavori dovrebbero essere commissionati entro il mese di giugno perché la proroga dura solo sei mesi a parte poi se ci saranno altre proroghe che verranno approvate dal governo ma ancora questo è incerto vediamo ora un articolo che riguarda Pergola manda il figlio senza vaccini all'asilo padre va a processo ma io non sapevo detto perché i solleciti inviati dalla scuola sono stati indirizzati tutti alla madre il padre è separato accompagnava la figlia e la figlia a scuola però ora deve rispondere a processo perché non ha rispettato le regole che erano in vigore nel momento più oscuro della pandemia morto no morto marito talebano picchia la moglie è stato condannato impediva la donna di fare qualunque cosa che le permettesse di integrarsi nella comunità picchiava dunque la moglie arrivando a vietarle di frequentare anche il corso di italiano si tratta di un marito padrone un tunisino di 30 anni che è stato condannato in primo grado a tre anni e due mesi di carcere il tribunale collegiale di pesaro ha anche liquidato a 7 mila euro il risarcimento danni alla donna una connazionale di 27 anni la quale aveva presentato un conto molto molto più sostanzioso di 90 mila euro per sofferenze subite tra le pareti di casa insomma la cultura di quel di quell'uomo era una cultura maschilista e quindi imponeva la sua volontà anche a suon di botte e la donna appunto era la vittima di questa situazione veniamo ora a terre roveresche dove c'è l'esempio di una collaborazione civica per quanto riguarda questi aspetti di interesse pubblico fabiola è una signora fabiola petrucci che ha accettato un lavoro per la comunità così ha detto risparmio 150 euro di tasse qual è il beneficio per accettare questi incarichi ci sono degli sconti per quanto riguarda le bollette per la raccolta dei rifiuti la signora petrucci che ha 61 anni è uno dei 60 cittadini che si sono messi a disposizione del progetto pubblico di terre roveresche pulisco le strade ha detto a parte lo sconto tarip mi sento utile e il comune rilancia chi vuole aderire a questo progetto può farlo entro il 31 gennaio prossimo lo sgravio fiscale passa da 50 66 per cento del totale per ogni ora circa 10 euro in meno insomma una piccola piccola somma che però insomma alla fine dei conti alla fine del mese conta per contribuire al bilancio familiare ed è una bella iniziativa questa perché crea coesione della comunità e ognuno si sente utile anche soprattutto i pensionati che magari dopo una vita di lavoro e di protagonismo vengono lasciati in disparte passiamo ad urbino e vediamo il nuovo direttore generale dell'ERDIS Giovanni Pozzari che evidenzia le proprie intenzioni per quanto riguarda la gestione di questo istituto investiremo risorse e studiamo progetti da presentare per i bandi del PNRR quindi ecco cosa cambierà per quanto riguarda i posti letto e le mense per quanto riguarda i posti letto è intenzione del direttore ampliare l'offerta per migliorare la qualità dell'esistente quindi l'intento è quello di acquistare l'hotel Piero della Francesca e l'albergo Montefeltro da ristrutturare da riconventire appunto per l'alloggio degli studenti e per quanto riguarda invece le mense dobbiamo ha detto il direttore come minimo mantenere la qualità attuale ma vorremmo anche attuare iniziative in tutti i presidi ERDIS per far riconoscere i piatti tipici delle marche anche agli studenti che vengono da fuori e quindi sono di altre regioni insomma anche questo è modo per contribuire alla promozione dei prodotti locali. A Fermignano toglie i veli la scuola del futuro una bella scuola si tratta di una nuova primaria che dovrebbe entrare in funzione tra fine anno e inizio del 2024. L'amministrazione comunale ha aperto il cantiere di via Milano si tratta di una scuola con un importante impianto autosufficiente dal punto di vista energetico pensata per ospitare 500 bambini e dotata di una palestra interna laboratori e giardini questo appunto è il progetto che sta per essere realizzato. Ed ora parliamo anche un po' di Sant'Antonio delle feste che si celebrano un po' nelle località dell'entroterra. A Pianello il culto degli animali si celebra a Sant'Antonio in programma oggi un'antica tradizione dopo l'interruzione a causa della pandemia riprende questa bella tradizione alle falde del Monte Nerone a Pianello la più grande frazione del comune di Cagli dove tornerà ad attirare moltissime persone la festa di Sant'Antonio c'è molto colore locale c'è una gastronomia insuperabile ma c'è anche soprattutto la devozione verso un santo che ancora oggi viene venerato in molte località. Finita l'emergenza a Cantiano ora occorre fare i conti con la burocrazia Cantiano invece fa il punto sull'alluvione. Promosso dal sindaco Alessandro Piccini si è tenuta domenica pomeriggio l'abbiamo visto anche nel giornale di ieri una riunione nella sala multimediale del Chiostro di Sant'Agostino dove è stato presente anche il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli. Apriamo il giornale anche per quanto riguarda la pagina di Pesaro e vediamo che si parla degli affitti. I padroni non si fidano una casa su tre rimane sfitta a Pesaro. Le cifre del lupi, lupi e l'unione piccoli proprietari immobiliari che evidenzia come su circa 3.000 appartamenti che sono appunto sfitti è troppo difficile affittarli perché poi mandare via l'inquilino quando questo non paga è una cosa veramente improba. A volte anche uno stupendio fisso non basta. C'è sempre qualcuno che non paga la quota allora subentra il proprietario per quanto riguarda poi il condominio e le spese delle utenze. Insomma ci sono dei problemi molto molto importanti e difficili da risolvere. La gente teme che gli inquilini possono rimanere senza pagare il canone pattuito, un canone che spesso si aggira sui 650-700 euro nell'entroterra. Ogni proprietario vede lo sfratto come un risultato lontano, estremamente difficile da ottenere. C'è una differenza devo dire che in città l'affitto si aggira sui 650-700 euro, nell'entroterra invece un po' di meno, 350-400 euro, ma ovviamente la città fa valere i suoi servizi. Il blocco degli sfratti uno shock, di fatto c'è stato un esproprio il presidente dell'Uppi, l'avvocato Stefano Tornibeni, l'Uppi abbiamo visto, l'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, accusa il governo, il Conte 2, con la scusa del Covid ai proprietari neanche un centesimo di ristoro per due anni in cui non hanno potuto liberare le case perché c'è stato appunto il blocco degli sfratti. Gli inquilini non pagavano e i proprietari hanno dovuto assorbirsi tutte le spese, l'Imu per esempio, per quanto riguarda la casa. Fondo affitti, 300 richieste in più al Comune, erano nel 2021 735 le famiglie che avevano questo beneficio, ora sono state diventate 1080 nel 2022, ma il bando per creare sistemazioni per i bisognosi è andato ora semideserto. Cercheremo di garantire l'assolvibilità dei privati, ha detto l'assessore Luca Pandolfi, ma forse non basterà lo stesso. Vediamo ancora un altro articolo sul resto del Carlino, vediamo la situazione del commercio, soprattutto delle attività legate alla ristorazione, così come viene calcolata e evidenziata dalla Confcommercio. Chiuse 253 attività legate alla ristorazione, i numeri del 2022 e le iniziative proposte per il 2023. Ad esempio la Confcommercio propone un Oscar per il miglior ristoratore della provincia. Ebbene, si parla di promozione, ma si fanno anche i conti per quanto riguarda questa attività, che è molto sensibile a tutte le variazioni di carattere dell'ordine pubblico, della sanità, dei problemi, della crisi che incombe ancora sul nostro territorio ed è uno dei settori economici più sensibili appunto alle variazioni e spesso purtroppo ne fa le spese in maniera molto penalizzante. Vediamo ancora altri articoli sul resto del Carlino. Vediamo, sì, possiamo far evidenziare questo articolo di politica. Litigi al color bianco tra giovani democratici, nota al vetriolo contro la proposta di innovare il PD facendo largo ai giovani, attenti a non farvi strumentalizzare dalle correnti. I giovani, si sa, sono sempre molto innovativi e spesso sono anche critici nei confronti delle vecchie tradizioni e nei vecchi modi di operare e trovano sempre dei contrasti ma alla fine sono quelli che si fanno valere. E qui vediamo il Presidente dell'Assemblea Comunale del Partito Democratico, Timoteo Tiberi, che appunto evidenzia il problema. Ed ora passiamo al Corriere Adriatico. L'apertura è dedicata invece ad una iniziativa che ha assunto l'assessore al bilancio Sara Cucchiarini. Di solito l'amministrazione comunale, almeno negli ultimi anni, è riuscita ad approvare il bilancio preventivo per l'anno che veniva entro il 31 dicembre. Quest'anno invece non gliel'ha fatta. Troppe sono state le incertezze gravanti a causa dell'aumento delle fonti energetiche, quindi delle bollette, a causa dell'aumento del costo delle materie prime. Insomma è anche l'incertezza per quanto riguarda gli aiuti dallo Stato e quindi entro il 31 dicembre non si è approvato il preventivo per il 2023. Questo comporta che almeno per il mese di gennaio si adotti il bilancio provvisorio. Bilancio provvisorio che significa che non si può superare la spesa di un dodicesimo compiuta nell'anno precedente e quindi gli investimenti sono molto limitati, anche se molti degli investimenti sono stati già coperti nel 2022, gli investimenti che poi proseguiranno anche nel 2023. L'assessore Cucchiarini giustifica la scelta di rinviare a febbraio. Probabilmente sarà approvato tra la fine del mese e l'inizio di febbraio il bilancio preventivo per poi attuare una gestione ordinaria come vorrebbe una giusta amministrazione. Si possono onorare ora le obbligazioni già assunte ma non si prevedono nuove spese di investimento almeno per questo mese. Poi vediamo un articolo, l'articolo che riguarda il foro boario. Foro boario, lavori per cinque mesi, la sosta è vietata a turno in otto area. Il cantiere al via domani, parta domani proprio i lavori, si inizia con un centinaio di posti auto collocati nella zona limitrofa all'ingresso, poi quella centrale, poi ancora quella più avanti e poi ci sono diverse zone che verranno precluse al parcheggio. Il giornale ripropone un articolo per quanto riguarda la tragedia che i giornali hanno evidenziato nella giornata di ieri. L'ottantenne falciato sulla superstrada Fano-Grosseto mentre procedeva a piedi o forse attraversava la strada. L'uomo si è smarrito, il figlio ne aveva segnalato la scomparsa. La vittima proveniva da Sant'Arcangelo di Romagna ed era rimasta senza benzina sulla superstrada. Aveva perso l'orientamento dunque l'ottantenne morto falciato da un alto mentre tentava di attraversare la Fano-Grosseto nei pressi di Fossumbrone Est domenica pomeriggio. Si chiamava Vittorio Bernardini e proveniva da Sant'Arcangelo di Romagna. Il figlio a mezzogiorno di domenica aveva segnalato la sua scomparsa ai carabinieri. Aveva trovato sul tavolo i documenti, anche la patente, il portafoglio e la chiave per aprire il tappo del serbatoio della Land Rover e appunto sulla quale il pensionato viaggiava. Ecco perché l'uomo era rimasto senza benzina non riusciva poi a aprire il tappo anche del serbatoio per fare rifornimento. Insomma forse probabilmente ha avuto un attimo di smarrimento. E poi vediamo che a Cantiano si considera una buona cosa il commissario per gestire un po' la ricostruzione dopo l'alluvione. Abbiamo subito una vera catastrofe. Le reazioni dei sindaci all'idea di Acquaroli, Biancani e Vitri però sono critici. Ancora nessun aiuto concreto e forse l'idea di nominare un commissario potrebbe accelerare la questione. E l'idea di un commissario piace anche a Sedigaglia. Un super commissario magari, dicono, dopo il disastro serve competenza. Il sindaco Olivetti concorda con il presidente Acquaroli sulla necessità di un esperto per gli interventi e un esperto anche che goda di una particolare autonomia decisionale. Questo anche per eliminare tutte quelle pratiche burocratiche che stanno dilungando appunto la soluzione di diversi problemi. Abbiamo visto come nei giorni scorsi sui giornali la burocrazia è stata interpretata come un ostacolo per la ricostruzione. Passiamo alla pagina pesarese del Corriere Adriatico dove si parla di edilizia scolastica. Scuole più efficienti e sicure. Sono 11 i cantieri per 26 milioni. Sono veramente considerevoli le cifre che vengono impegnate nell'edilizia scolastica. Il focus pubblicato da questa tabella evidenzia i cantieri in atto. È stato avviato il cantiere per la nuova palestra scuola di Via Fermi con fondi del PNRR. L'apertura è entro il 20 gennaio per la nuova palestra Olivieri in Via La Marmora. Poi c'è la realizzazione e l'ampliamento della mensa scolastica nell'istituto Pirandello. Verifiche invece concluse alla scuola primaria Manzi di Via Confalonieri. E quali sono i prossimi cantieri a Pesaro? Sono quelli della scuola primaria Manzoni in Via Frescobaldi, l'istituto Galilei di Via Montebianco, la scuola primaria di Via Fermi a Montegranaro, mentre sono stati già ultimati gli interventi della primaria Don Bosco, della Grande Quercia e dei tre giardini. Ebbene, abbiamo veramente un considerevole intervento su questo settore. E poi su quest'altro articolo invece si parla anche di Fano, gli interventi di edilizia scolastica a Fano. L'area materna infantile è quella privilegiata. Ci sono tre interventi considerevoli, sono quelli dell'ampliamento della scuola di Via Colonna nei pressi dell'aeroporto, della scuola dell'asilo di Bellocchi e della scuola materna, non una scuola paterna, che sarà unito al plesso nuovissimo della scuola elementare di Cucurano e Carrara. Queste le nostre priorità, l'assessore Brunori e la scelta fanese di non statalizzare nessun istituto. Ci sono infatti alcuni comuni che preferiscono passare allo Stato la gestione di alcune scuole perché pesa sui propri bilanci. Il Comune di Fano invece continua a mantenere e a gestire le scuole che hanno ottenuto un grado di qualità piuttosto elevato. Questo è il luogo del di grado. Negozi chiusi per disperazione. Piazzale, primo maggio, a Pesaro, la bruttura dell'ex carcere minorile. Esercenti, esasperati. Si intervenga sulla qualificazione di questo piazzale importante per il centro pesarese. E si riapre almeno quel tratto di strada chiuso da tre anni che da Viale Marconi, via dei Partigiani, sfocia proprio all'ingresso del piazzale. Parla così Marco Piovaticci, gestore di non solo tobaccheria in piazzale primo maggio, che ha visto poi altre sue vicine attività chiuse nell'ultimo periodo perché appunto la zona non attrae per il squallore con cui è rivestita. Semafori come centraline antismog. Non sono previsti qui solo luci e led. Botta e risposta tra pozzi e gambini anima il consiglio. Ufficiali le nuove nomine e i cambi di casella. C'è un rimpasto di giunta con l'ingresso dei Verdi a maggioranza allargata e impegno civico. Effetti politici anche sull'Unione Pian del Bruscole, sulle commissioni comunali. E questo è appunto alle novità per quanto riguarda questa situazione. Ieri si sono stabilite nuove cariche e sono diventate ufficiali con l'approvazione unanimo e in consiglio comunale della delibera per la cessazione della carica di consigliere di Maria Rosa Conti, che fa parte di Europa Verde, nominata in giunta dal sindaco Matteo Ricci al posto di Aidi Morotti, che faceva parte del Faro. A quando le nozze di Domizia, a luglio si sposa già Luca Marini. E terminiamo la nostra rassegna stampa con questo articolo rosa. Pecco Bagnaia è il grande atleta del motosport, ospite di Fazio tra la data del matrimonio e il MotoGP. Vale è il suo coach. E questo appunto era l'ultima notizia. Con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa e ci rivediamo domani alle ore 7. Grazie per l'ascolto. A risentirci.